Allora, Cesare, lo sai che ho pensato, sono arrivato a tale conclusione che il mio rapporto bramanico con le voci, interiori e all'esterno, ho capito che, la prima cosa che ho parlato è che ho capito, ho capito a capire che i veri animali sono i nostri gnavi, i gnavi dei dandeschi. Quelli che non sanno che esiste un altro Dio, proprio da una profezia, proprio da una profezia, proprio da una profezia, però ci sono... Tipo Ate, tipo... Ate, di Virgilio, Virgilio e Dante, Virgilio non lo seguo più a un certo punto, devi stare per forza a un certo girone del rimbo, perché è inverno, lui il nabo, non sa che mi piace Cristo, non sa che mi piace tutte le profezie. No, aspetta, lo dico io perché mi sa che non ricordo mai, perché quel girone era là, se non mi sbaglio, era dedicato alle persone che erano anche prima di Cristo. Eh sì, ero qui, non può vedere mai conoscere, non sono la gesto. Non sono la gesto, non va bene, non va bene, non va bene, stiamo facendo questa interazione, inattora non va bene, perché sennò poi gli erano subito di Orissia. E tutto questo, a me gli animali sono come loro, c'è l'olore che vengono l'incarazione di questa gente, dei vecchi dei greci, e di quelli che ci credono al italiano, come i nazisti, come il nazista Hitler, che è la mosca, è il cane Nietzsche, che non devi disturbare la quiete, l'ambiente, Nietzsche, il poeta, il cane che c'è il cuore, il mammifero come te, l'abico tuo, il cane che sta in mente, sono loro l'incarazione che loro, quelli che hanno sbagliato nella vita sempre come loro. Questo non lo sono a raccontare, e queste le continuazioni di Matteo, perché sono attuali di luce. Ma cosa che, cosa che è ingiusto anche che venivano continuare per questi in generale? Ma perché ti erano vicino nel limbo, potevamo continuare, che sia fino al limbo, oppure prima di andare al piastrice. Ma ci stavo visto, però no, a stare a Virgilio è nato primo, no? Virgilio è nato primo, no? Quindi, devo dire, hai più storia di altri fatti, fatti di Firenze, pure. Aspettis, Virgilio è nato, è nato in Italia, metto alle società segrete della stessa città. Ma che tipo Virgilio è nato? perché è nato in Italia, è nato in Italia, è nato in Italia. Vigilio è nato in Italia, in Italia, è nato in Italia. l'odicea 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 ha scritto l'odicea ma sono tradizioni orari io non scrivevo Vigila ha scritto l'odicea in Italia perché c'è Ennea perché un romano Ennea, i figli di Ennea lo dicono anche i fascisti di nuovo Romolo e Remo e tutte queste guerre che ora sembra colpire i simboli come una cattedrale di Notre Dame aspetta ti ricordi con precisione se Romolo e Remo sono una cosa diciamo la storia di Romolo e Remo in generale ma quindi non è ricordato la storia nostra ma è come lei la vedeva di la vita è una storia 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 è un'intro della canzone Wagnerana vediamo se mettiamo Wagner la conoscenza di Wagner è bellissima è un movimento eccezionale della musica perché ora solo il digitale può fare la più complessa è un'intro è un'intro è una storia che rift di violini ho capito che devo comprare la lira non devo comprare la vecchia Saterra censurato di Nietzsche perché Nietzsche su un pianoforte diceva faceva schifo la chiesa gli va bannata si è un'intro fai il numero 4 parola però perché di Nietzsche era un grande filosofo la storia della storia faceva schifo eppure il jazz secondo me non l'avebbe applicato lui non ce l'avevano ancora il jazz la vecchia contaminazione multiraziale poi diventa tutto diversato ma non si fa come consiglia non ne che avresti fatto si ma ne che avresti fatto qua no faccio quel mi ti sbagliare mi ti sbagliare fai usare che devi entrare no, questo lo tagliamo stiamo facendo continuazione poi lo tagliamo cosa vuol dire per te questo? è un guista è un guista uno che sta andando effettivamente se mi faccio guardare le scarpe che adesso non possono uscire non mi stavo parlando della cosmata abbiamo sentito perché stavo parlando della cosmata sai cos'è la cosmata? la vecchia regola di Pitagora quella di parlare con un senza fai vedere la faccia così è la rapa che stavo facendo adesso che tu comunque vuol dire no senza Sigfriddo di Valkyre rettia leggenda di Valkyre questi qua erano tutte persone che oltre a saper combattere in un punto che stiamo parlando in modo parlare in modo acciorevole ma quello qui ci ha fatto proprio per Valkyre il suo migliore amico il musicista che lui diceva tutte le musiche lui era solo un filosofo però suona una piccola forte parlando una chiesa perciò Valkyre era ucciso questo cuore secondo me è stato così no che si sono uccisi da soli tutti e due si sono arrurrati erano un po' forti si sono semplicemente arrurrati uno era il migliore nel filosofo e uno nell'ultima canzone potente del novecento si può fare solo Valkyre in acustico in analogico e basta dei Valkyre nell'ultimo capolavoro Valkyre la che dai? che diciamo? proprio la cavalcata dei Valkyre una canzone ripetiva cioè ora è un analogico ma si è uguale no età 1900 fino a c... padre Mortonice i primi del novecento fino a ottocento fino a ottocento ma anche i fiori del male di Baudoleno sono belli tra l'ottocento di rimbobbo tra l'ottocento non mi ricordo sempre il 20 ottobre quando sono nato io lo sai? già lo sono nato io il 20 ottobre come lui e anche per la Lucosi tipo Campino chi? il primo vampiro come si chiama? il primo vampiro attore mi dicono che lui era vero era di sangue vampiro ma non esistono i vampiri sono pazzi sono pazzi sono pazzi sono pazzi sono pazzi sono pazzi stessa cosa stesso complotto ideologico beh io sono il migliore tu sei il migliore allora va da parte il suo cattivo amico e si... e si uccide una vicenda questo è stato come io andavo dai miei cattivi maestri di una fassata disciplina e si ucciderono troppo che si aprono in giro a noi in quel caso succederà se non la fesce rompi coglione non è già te allora stoppiamo qua alla grande alla prossima si no posso sempre tagliare taglio quello che non ci serve se devo parlare solo io allora devo dire tutte le considerazioni inattuali di oggi ok? allora per l'argomento considerazioni inattuali passiamo a Sonic il mio Enea ci inoltriamo nelle nuove realtà di onisiache ma che significa noi la profezia dei tuoi soli il mio figlio secondo le considerazioni inattuali neanche secondo il regista figuratevi secondo me con le considerazioni inattuali che Sonic sarà il mio avevo pensato il cane Nietzsche il cane Nietzsche il mio amico ho detto non lo chiamo Nietzsche il mio amico come Nietzsche chiamò il suo cavallo ma io secondo me come voi il mio nuovo pet sarà il porcospino non come Sonic quello lento lento con i bugiglioni capito? è il mio Enea è la mia genesi che crea questo personaggio di notturno dei sogni dove è un paradiso che mi dici sempre tu sei Sonic come sempre tu basta delle tutte le immagini di Sonic è sempre il migliore è sempre il più bello poi hanno fatto le nuove realtà di onisiache e poi hanno fatto i Sonic vero? è bruttissimo lui ma il resto è un film è un'altra tragedia è solo un colosso è un cinepalettone alla fine a noi ci piace più il cinepalettone saluti da Venezia dalla conda di Venezia alla prossima ok bella questa quindi pensando a considerazioni inattuali caro Dottor Genesiaco pensando a considerazioni inattuali cioè sì ci sono hai capito? che vado questo è un'altra cosa semplotente è un'altra cosa che fa non è una cosa che abbia sì è un'altra cosa non è un'altra cosa è un'altra cosa il non è una cosa è un'altra cosa è un'altra cosa Allora, a quel punto, caro, è peggio di Bindu, perché non è la mia vita che riesca a fare La mia vita è un attenzione, è un mistero di due sole, addirittura si sono talmente immesso in quel film interpretandolo come il vecchio Charlie Chaplin dopo l'algeggio dei fratelli Lumer Ho pensato a quello, io sono l'unico super ester di questi C'ho tutto adesso, c'ho un Mac da quando eravamo 8kb, e sono 8 centesimi Ora ne abbiamo 8 milioni solo a casa di rete, della rete che diceva Nietzsche, del fatto di Nietzsche, della terra del ragno E dopo questo, ciao Giuseppe, grazie E dopo questo, la terra del ragno è diventata veramente quello che diceva Nietzsche Cioè, ciò che noi ci vediamo, no, è il contrario della sua profezia Noi non riuscivano mai a vedere, ma non riuscivano a vedere, ma siamo peggio di un fatto Abbiamo i navigatori satellitari e tutto Com'è questo fatto? E noi ci siamo a pesponare nel vecchio letto Allora tu sei, non riuscire a me, per il più canguro ti dà il pugno da box E uccide il radar a un certo punto, ma cosa vuole da me? E così è Sonic Io voglio il mio petto, io ho perso il mio petto, ho perso il mio animale Il mio animale è un mio dionisiaco, ovvero il dionisiaco Che alla fine è proprio l'animale Che dopo gli uomini di Gesù e tutti gli altri Bisogna tornare addirittura ad Adone a rispettare l'animale E ci basti ciò che volevano E salvare altri cavalli, altre cose C'è una genesi, i poetici sauer, il mammifero è ancora di più Io riesco come esopo a mettere, a dare al delfino la voce del violino Alla cicala la voce dell'armonica Al pianoforte tutta l'orchestra, tutto lo zoo Al graninetto la balena, in certe frequenze In certe altre è un ciuccio In certe altre è un gabbiano Poi la tromba che sembra un elefante Questa c'è, la lina adesso di Orfeo Troverò il nostro nuovo nome, il mio nuovo petto Credo chiamare un porcospino, se gli somiglia Effettivamente c'è delle spine che sembrano degli uti Alla prossima, sono le genesi, davidigilo, adenea, ecc E la lupa, i figli della lupa